Buongiorno a tutti, Consiglio europeo che si è appena concluso. Credo che sia stato in un certo senso il Consiglio europeo che riflette la situazione in cui ci troviamo, cioè una situazione da un lato certamente più incoraggiante per il progetto dell'Unione, lo dico anche perché sapete che oggi è il 23 giugno e proprio esattamente un anno dal referendum britannico e contemporaneamente certamente anche una fase in cui in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, in particolare in Germania, si prendono delle decisioni ma anche in modo, diciamo così, transitorio, puntando molto a smussare le eventuali differenze. Dal punto di vista italiano io credo che sia stata una riunione molto utile, molto importante, soprattutto su un paio di questioni che ci stavano e che ci stanno molto a cuore, in particolare la questione migratoria ma anche la questione dell'atteggiamento che l'Unione europea deve tenere sulle politiche industriali, il commercio internazionale, la protezione degli investimenti. internazionale. Il riassunto che più o meno conoscete è abbastanza semplice, passi avanti sul tema della sicurezza, tema forte di questa nuova stagione dell'Europa che riscommette sul proprio progetto e ribadimento di alcuni concetti che in Italia conosciamo bene perché erano alla base della dichiarazione del G7 a Taormina sull'antiterrorismo e la sicurezza, in particolare sull'attenzione da dedicare in questa materia alla richiesta ai giganti del web di adottare tecnologie in grado di rimuovere anche automaticamente e rapidamente i messaggi di radicalizzazione conferma degli impegni degli accordi di Parigi. A questo blocco di decisioni prese ieri pomeriggio si è aggiunto nella serata di ieri la discussione su due temi, il primo come da richiesta italiana sulla questione rinnovo delle sanzioni in Ucraina, che noi chiediamo non perché siamo affezionati a far discutere i colleghi su questo argomento, ma perché riteniamo la discussione sulla opportunità o meno del rinnovo, sulle condizioni per il rinnovo, sull'utilità dello strumento rispetto agli obiettivi degli accordi di Minsk, riteniamo questa una discussione doverosa, non crediamo che le sanzioni possano essere né perenni né scontate e devo dire che essendo uno dei temi che ha suscitato una discussione più lunga e più approfondita in queste 24 ore, probabilmente è giusto così. Quindi ieri c'è stata mi pare un'unanimità nella necessità di rinnovarle, ma certamente diverse sfumature e punti di vista su il fatto che questo possa essere nei prossimi mesi e anni lo strumento principale su cui puntare in quella zona di crisi. L'altro tema che abbiamo affrontato ieri, come sapete, è il tema Brexit e post-Brexit. abbiamo ascoltato dal primo ministro May soprattutto una proposta, un passo che lei ha voluto indirizzare ai colleghi europei relativo al tema della cittadinanza. Vedremo, nel senso che certamente è una dimostrazione di buone intenzioni, ma sono tutte cose che bisogna verificare poi nel merito, perché si parla di chi è da almeno cinque anni, bisogna capire che succede agli altri, bisogna capire in che modo queste condizioni di parità possono essere effettivamente esercitate con delle giurisdizioni che non sono le stesse a livello... e soprattutto, e questo mi pare sia stato con grande forza ribadito ieri da Michel Barnier, bisogna che su tutte e tre le questioni che sono state messe all'inizio del percorso della discussione sull'articolo 50 si facciano dei progressi e le questioni, come sapete, sono tre, una è quella dei cittadini, la seconda è quella dell'Irlanda, che naturalmente ha delle connessioni oggi molto delicate con la formazione di una maggioranza alla Camera dei Comuni e la terza è quella, diciamo così, del costo finanziario della interruzione da parte del Regno Unito della partecipazione all'Unione Europea. Quindi direi che abbiamo visto in questa proposta comunque un gesto interessante da parte del Regno Unito, ma bisogna vedere nel merito e bisogna soprattutto vedere anche gli altri temi su cui le prime tappe di questo percorso di Brexit si devono sviluppare. Nell'ambito di questa partita di Brexit c'è anche la partita del dopo Brexit, di cui c'è stato un rapido accenno ieri sera, perché la discussione di fatto si era sviluppata più a livello di scerpa, di ambasciatori nei giorni precedenti, sul tema del destino delle due agenzie che abbandoneranno Londra, mano a mano che va avanti il processo di Brexit. Sapete che l'Italia è candidata insieme ad altre 20 città, ma comunque Milano è candidata ad ospitare una delle due, l'Agenzia del Farmaco, e noi ci siamo battuti e sono abbastanza soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto, ma stiamo parlando di metodo naturalmente perché le decisioni si prenderanno a novembre, ci siamo battuti perché il ruolo della Commissione e dell'assessment tecnico e di merito che la Commissione deve fare sia un ruolo fondamentale, perché naturalmente è chiaro che noi siamo convinti che Milano sia una delle città, non l'unica perché naturalmente ce ne sono altre, che se si guarda al merito dei dossier ha le carte in regola e forse più in regola di altri. Infine i due temi su cui si è concentrata la giornata di stamani sono stati quelli forse più attesi sul piano politico, da un lato la discussione, chiamiamola, sulle politiche industriali e il commercio e dentro questa discussione si sono riversate alcuni input che anche il governo italiano aveva portato avanti negli ultimi mesi relativi da un lato alla necessità di una politica industriale europea e dall'altro anche a una particolare attenzione da parte dell'Unione Europea e della Commissione alla reciprocità delle possibilità di procurement e di appalto tra Paesi dell'Unione, Mercato Unico e Paesi Terzi e alla necessità che la Commissione si dedichi nelle prossime settimane a fare delle proposte al Consiglio su come analizzare diverse offerte e proposte di investimenti di Paesi Terzi in settori strategici, settori strategici che possono essere settori legati alla sicurezza, legati a questioni militari, legati a questioni molto sensibili dal punto di vista delle basi dati rispetto ai quali esistono in diversi Paesi già degli strumenti di tutela, la famosa Golden Power nel nostro Paese per esempio e in cui su input francese, italiano e di altri Paesi si è dato mandato alla Commissione. Questo naturalmente non cambia in nulla e basta leggere il documento per vederlo. Il fatto che l'Unione Europea resta il campione del libero scambio e resta l'avversario convinto delle politiche protezionistiche significa però che il libero commercio che noi difendiamo non può essere da parte nostra un commercio semplicemente disarmato perché questo sarebbe un errore. Infine sul tema migratorio credo che l'Italia possa essere soddisfatta delle conclusioni che sono state raggiunte anche se sappiamo bene che i problemi con i quali abbiamo a che fare non si risolvono con le conclusioni di un documento del Consiglio Europeo però ognuno poi si accontenta delle partite che si svolgono giorno per giorno. Allora la partita di questi due giorni era quella non di risolvere il tema dei flussi migratori in Italia ma quella di affermare alcuni concetti, direi quattro fondamentalmente, che anche modificando le bozze di conclusioni che erano circolate in questi giorni sono presenti e che si riferiscono da una parte al tema su cui giustamente ha insistito ieri il presidente Juncker e di cui avevamo parlato anche insieme ieri mattina di un maggiore impegno degli stati membri nel Trust Fund e in particolare nella finestra Nord Africa del Trust Fund per l'Africa perché il matching dei fondi della Commissione da parte di molti paesi membri è ancora insufficiente e quindi c'è un invito da questo punto di vista a concorrere al rifinanziamento di quel fondo c'è il discorso dell'impegno dei diversi paesi alla solidarietà con i paesi che sono in prima linea e in particolare ovviamente l'Italia nel fronteggiare i flussi migratori, l'Italia, la Grecia e c'è la questione forse un po' tecnica ma credo importante su cui molto ha insistito anche la vicepresidente Mogherini dell'utilizzo delle politiche dei visti da parte dell'Unione Europea per incentivare accordi sui rimpatri dove ci sono accordi sui rimpatri noi senza sbandierarlo perché questo può provocare anche dei contraccolpi negativi in alcuni paesi africani dove ci sono dei buoni accordi stiamo aumentando anche molto considerevolmente il numero dei rimpatri dall'Italia verso questi paesi e quindi moltiplicare questi accordi e usare l'arma dei visti per farlo può essere importante. E infine concetti che per noi sono fondamentali e che riguardano da un lato la cooperazione regionale nelle attività di search and rescue, termine piuttosto vago dietro il quale si nasconde il concetto che non può essere solo il paese di primo arrivo a farsi carico delle attività di accoglienza dei migranti è naturalmente una porta che si apre rispetto alla quale ci sarà molto da lavorare è un principio che si comincia a considerare in sede europea e sul quale certamente noi potremmo inserirci con le nostre proposte, le nostre iniziative e la conferma poi dell'impegno europeo a sostenere tutti i passi che l'Italia sta facendo e in particolare quello che riguarda la guardia costiera libica, il sostegno alle sue attività il quadro che emerge è un quadro ovviamente di preoccupazione per i numeri dei flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale ma anche la consapevolezza che una strada o almeno un sentiero è stato individuato basti pensare al fatto che negli ultimi settimane abbiamo avuto sia numeri di salvataggi in mare operati dalla guardia costiera libica, 8.600 negli ultimi due mesi e sia numeri di rimpatri dalla Libia verso altri paesi africani operati da OIM oltre quasi 6.000 che certamente non hanno ancora invertito la tendenza dei flussi migratori verso il nostro paese ma che ci indicano la strada sulla quale si può lavorare ottenendo dei risultati grazie siamo qui è un po' di corsa è un po' di corsa quindi prendiamo tre domande Giulia Feritti della Reuters e sulle banche venete ci potrebbe essere un decreto questo weekend? noi diciamo stiamo seguendo in continuo contatto tra il ministero dell'economia le autorità finanziarie italiane e le autorità europee la situazione naturalmente se ci saranno decisioni da prendere le valuteremo e l'unica cosa che voglio dire è che siamo in contatto continuo con le autorità europee competenti e che la garanzia per quanto riguarda i risparmiatori correntisti nelle discussioni che stiamo facendo è una garanzia che mi sento di confermare totalmente Ivo Caizzi del Corriere della Sera Presidente la Germania quando ha avuto bisogno di risolvere il problema dei flussi migratori diretti sulla rotta dei Balcani è riuscita proprio attraverso il Consiglio europeo in tempi rapidi a affrontare e risolvere il problema facendo mettere sul piatto 6 miliardi di euro perché lei dice che forse questa non è la sede per risolvere il problema quando ci sono appunto dei presidenti che dimostrano e quando il paese è influente ed è determinato a ottenere risultati e sa farsi rispettare in Europa riesce a ottenere dei risultati una domanda collegata a velocissima in piccolo anche il problema dell'agenzia fa riferimento a quello che è il peso del paese in Europa lei giustamente ha detto che Milano avrebbe anche più requisiti di altre città per concorrere all'assegnazione ma per esempio se i ministri italiani sono quasi sempre assenti nei consigli settoriali dove si creano quei meccanismi di alleanze di scambi che poi sono fondamentali per ottenere questi risultati come pensa che il paese possa contare e poi ottenere risultati quando si arriva al momento? escludo il sottosegretario Cozzi che invece è sempre molto presente no ma voglio dire guardate sugli italiani noi dobbiamo essere sempre molto realisti ma anche molto orgogliosi di quello che siamo di quello che facciamo oggi attorno al tavolo c'erano mi sembra un italiano che si chiama Mario Draghi un italiano che si chiama Antonio Tajani un'italiana che si chiama Federica Mogherini a parte il sottoscritto che vi partecipa per diritto quindi una grande sottorappresentazione francamente non la vedo forse sono sull'onda di stamattina in cui ho partecipato a una bellissima iniziativa non so se qualcuno di voi l'ha vista ma comunque che mi ha colpito che c'erano 700-800 persone italiane che lavorano qui nelle istituzioni bruxellesi e mi hanno detto che i migliori quelli che risultano i migliori nei concorsi di accesso all'Unione Europea sono gli italiani quindi abbiamo un'ottima realtà per come siamo rappresentati e abbiamo anche delle prospettive future visto che i giovani italiani arrivano primi dopodiché bisogna partecipare ai consigli europei e bisogna tessere alleanze per ottenere risultati penso che il governo questo lavoro lo stia facendo quello che dico sempre e chiedo scusa perché può sembrare una battuta non diplomatica è che se qualcuno pensa che le autorità libiche e le autorità turche siano paragonabili fa una piccola forzatura quindi è evidente che oggi noi stiamo diciamo così aprendo una strada e cercando di ottenerne il massimo inducendo la commissione e i singoli paesi membri a fare un investimento in cooperazione con un interlocutore il consiglio presidenziale libico che non ha esattamente lo stesso controllo del territorio la stessa capacità di trattenimento dei migranti la stessa poi può piacere o meno no la stessa affidabilità come interlocutore di Erdogan quindi è evidente che per primi noi facciamo queste cose in modo molto graduale perché siamo consapevoli del fatto che l'interlocutore con cui lavoriamo cioè la Libia ha un governo riconosciuto dalle Nazioni Unite ma molto fragile quindi bisogna fare insieme due mestieri lavorare per stabilizzarlo e lavorare per metterlo in condizione di gestire flussi migratori contro le organizzazioni dei trafficanti se qualcuno oggi dicesse tiriamo fuori i 3 miliardi li diamo al Consiglio Nazionale Libico e abbiamo risolto il problema migratorio chiamerebbero qualcuno da fuori prendetelo quindi è evidente che sono due situazioni molto diverse noi stiamo lavorando perché questo sentiero che si è aperto in Libia gradualmente ci sono dei numeri incoraggianti porti a mettere sotto controllo i flussi da parte di autorità libiche che tuttavia restano molto fragili non c'è dubbio Jacopo Barigazzi grazie è presente Jacopo Barigazzi è politico una domanda sulla Russia anzi due cioè una se ieri sera avete discusso anche del superamento del formato di Minsk visto che Michel il primo ministro belga ne ha poi parlato dopo nel sudorstep in genere quando per superamento in genere si intende farsi vedere anche la UE insieme a Francia e Germania e volevo appunto sapere se ne avete discusso e qual è la linea italiana nel caso su Minsk e secondariamente sempre legato alla Russia Nord Stream 2 abbiamo visto il congresso americano appunto stringere le sanzioni della Russia includendo Nord Stream mi sembra che fosse al consiglio del dicembre 2015 quando l'Italia sollevò qua il problema di Nord Stream e mi chiedevo quindi se l'avete risollevato ieri sera o se avete comunque intenzione di per esempio c'è una proposta da alcuni paesi di portare Nord Stream da core per uno a core per due quindi rendere la discussione più politica grazie certamente ci sono alcuni paesi uno fra i tanti ma forse quello che più si è considerato colpito da queste decisioni della Bulgaria che ritiene di essere stato in qualche modo penalizzato perché voi sapete che a un certo punto si è cancellato quel progetto South Stream che doveva per l'appunto passare attraverso la Bulgaria e poi qualche mese dopo è spuntato fuori il raddoppio di North Stream non è stato devo dire al centro della discussione di ieri sera noi abbiamo sempre detto comunque su questo punto che vorremmo come in Italia si dice una specie di par condicio cioè che la stessa severità o la stessa indulgenza che si applica nel valutare alcuni progetti venga applicata anche per valutarne di altri perché non è possibile il contrario cioè che si sia molto severi su alcuni progetti e molto indulgenti su altri dicevo però non è stato in realtà questo il il tema fondamentale in discussione quanto piuttosto se l'esercizio che è in corso ormai da oltre due anni di attraverso il formato normandia di interlocuzione con le autorità ucraine e russe e che è diciamo così il il plafond sul quale si decidono le sanzioni e il loro eventuale prolungamento sia un esercizio che ha ancora una effettiva prospettiva e certamente c'è come c'è sempre stata una spinta da parte dei molti paesi europei a dire ma insomma questo esercizio franco tedesco non è che stia andando ha dei risultati straordinari io per la verità ho sempre pensato che ho sempre apprezzato la fatica con cui hanno lavorato su queste cose però non c'è dubbio che oggi il contesto appaia un po' bloccato e quindi si è molto discusso senza entrare in dettagli anche perché non si trattava di prendere decisioni su come sbloccare un po' questa situazione e magari questo ha insistito diversi interlocutori su come si può aprire un dialogo con la Russia anche su altri terreni nonostante lo stallo che ci può essere su l'Ucraina e su Minsk per esempio noi abbiamo bisogno di collaborare con la Russia per dare soluzione alla crisi siriana tanto per fare un esempio e lì può darsi che ci siano spazi maggiori così come non c'è dubbio che di per sé lo strumento delle sanzioni che pure nessuno onestamente tra i 28 ha chiesto di interrompere è uno strumento che ormai è diventato come un elemento del paesaggio cioè sono lì e non è detto che abbiano quindi le confermiamo perché dobbiamo ribadire la nostra unità l'inaccettabilità di quello che è accaduto il leverage la loro capacità di incidere col trascorrere del tempo può non essere straordinaria ed è per questo che l'Italia propone che la loro eventuale prolungamento non sia un esercizio affidato semplicemente agli ambasciatori o a dei tecnici ma sia oggetto di una discussione politica dove stiamo andando funziona non funziona il modello il formato normandia insomma è una discussione che ieri sera si è avviata e che penso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sarà sicuramente interessante ultimissimo vai buongiorno Gallavotti dell'agenzia di Neconos due domande rapide la prima sempre sulle banche venete dobbiamo aspettarci una soluzione in tempi rapidi oppure dovremmo aspettare l'estate luglio la seconda se posso la famiglia di Gloria Trevisan la ragazza che ha perso la vita nella Grenfell Tower di Londra ha chiesto al governo una riflessione pubblica sul fatto che molti giovani come Gloria e Marco sono dovuti emigrare perché pur essendosi laureato con il massimo dei voti in Italia ottenevano impieghi da 300 euro al mese volevo capire se vuole cogliere questa occasione per fare una riflessione su questo grazie sulle banche venete ho risposto prima sull'altro tema la riflessione innanzitutto è una riflessione di come si può dire di condivisione del lutto del dolore per la perdita e insomma cose cose terribili io cerco sempre di non associare queste cose terribili a problemi diciamo così sociali o generazionali più più generali no? perché insomma sono cose incommensurabili certamente c'è un problema di lavoro c'è un problema di come utilizzare al meglio i talenti che si formano in Italia e su questo il governo è impegnato abbiamo anche dei buoni dati sull'occupazione eccetera eccetera però purtroppo questo non cambia niente di questa situazione grazie grazie grazie